ciao ragazzi quest'oggi volevo proporvi un nuovo prodotto di minoxidil al 5% però della marca folie in un altro mio video recensito sempre un prodotto minoxidil però marcato kirkland diciamo la differenza dei due prodotti diciamo la base sempre minoxidil al 5% quindi la soluzione sempre quella la differenza rispetto da questo rispetto al kirkland e che il kirkland è leggermente più oleoso insomma rispetto a questo qua però diciamo l'efficacia è identica questo è uno dei prodotti che ho maggiormente venduto perché i miei clienti si trovano molto bene rispetto agli altri in commercio perché perché questo prodotto ha una diciamo se una consistenza più leggera rispetto agli altri in commercio quindi facile più facilmente assorbibile si asciuga in fretta non unge allora questo è un è marcato follygain è una casa americana la confezione è di tre mesi questo prodotto indicato per la perdita dei capelli ma si è vista l'efficacia anche per la ricrescita della barba quindi per chi desidera in qualche modo rinfoltire o ha delle zone scoperte nell'area facciale il minoxi del 5 per cento è ottimo l'applicazione come va fatta ho fatta una volta al giorno due volte al giorno all'interno vediamo della scatola abbiamo le tre boccette quindi ogni boccetta di durerà un mese a poco più quindi all'interno troveremo il dosatore quindi l'applicazione semplicissima va utilizzato un ml quindi la mattina un ml la sera o è possibile fare un'unica applicazione di due ml la sera allora all'interno come ho detto abbiamo le tre boccette poi se non sbaglio abbiamo le anche un manualetto di istruzioni ragazzi che dirvi il prodotto come vi ripeto è uno dei più efficaci in commercio per chi fosse interessato al prodotto può contattarmi lasciarmi un commento o contattarmi in privato io sono a disposizione per qualsiasi chiarimento o altro basta contattarmi spero che il video vi sia piaciuto lasciate un like iscrivetevi al mio canale grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti